Sui territori di Settimo Cirie, WISP è particolarmente attiva per favorire lo sport dei giovani, ma soprattutto per aiutarli contro il bullismo. Certo. Noi appunto come ente di promozione sportiva siamo presenti a Cirie Settimo Chivas, un territorio appunto del nord-est della provincia di Torino, e con tutte le nostre associazioni abbiamo appunto questa nostra mission di non solo fare sport che debba essere per la vittoria, per la prestazione, ma lo sport deve essere un incontro tra giovani e questo incontro deve essere l'incontro tra tutti questi ragazzi e non la prevaricazione tra di loro. E questo è molto importante, soprattutto lo sport sociale è quello che noi facciamo e ci teniamo a farlo. Adesso abbiamo anche questo strumento, da quando abbiamo conosciuto appunto Fabio Denunzi, abbiamo collaborato con lui in questi due anni per la realizzazione di questo calendario che deve essere uno strumento didattico secondo noi. Tutti i nostri ragazzi che hanno partecipato, quest'anno anche i ragazzi del Breganze di Vicenza, è una società appunto di hockey a rotelle, mentre al Settimo Torinese ha partecipato al Borgo Nuovo Settimo, che sono ragazzi che giocano a calcio a 5, maschile e femminile, si sono appunto prodigati in queste foto non essendo loro degli attori, però hanno messo dell'oro perché loro hanno vissuto queste situazioni. Di conseguenza questo è uno strumento che oltre, adesso lo consegneremo lunedì prossimo a Settimo Torinese, a tutte le classi della nostra città dove noi abbiamo la sede, però la consegniamo a tutti i comuni, 72 comuni della nostra, appunto dove noi operiamo. Ci sono già state tante richieste da parte dei sindaci di questi calendari, perché l'anno scorso abbiamo fatto appunto questa distribuzione, uno per ogni comune, quest'anno invece li abbiamo chiesti con un'offerta, porteremo questi calendari che contribuiranno, si spera, a debellarlo, anche se è una cosa molto grossa di debellare il bullismo, però bisogna cominciare giustamente e cominciare a perseverare e darci dentro.